Il piano per il lavoro con l'assunzione di 10.000 giovani nella pubblica amministrazione ma anche ironia feroce nei confronti dell'inquilino del di Castero alle infrastrutture Danilo Toninelli paragonato a un maccarone e definito ministro con i bigodini. Nel consueto appuntamento settimanale sull'Ira TV il governatore Vincenzo De Luca annuncia prima di tutto la svolta per il piano occupazionale nei comuni finanziato dalla regione. Non si tratta di rigonfiare la pubblica amministrazione, non si tratta di fare spesa pubblica parassitaria. Si fa un'operazione assolutamente trasparente, le procedure concorsuali vengono gestite dal Formez, non dalla regione. Nel frattempo i comuni hanno un mese di tempo per segnalare alla regione le esigenze che hanno di pianta organica. Poi l'affondo durissimo nei confronti di Toninelli. Se possiamo consentirci qualche ironia con il ministro Toninelli, io già da quanto si è presentato questa immagine di ministro con la permanente, i bigodini, e non si fa. Il detto latino nome è nome, nel nome è un presagio. C'è una leggera assonanza tra Toninelli e i tonnarelli, me lo confondevo all'inizio. Sapete, i tonnarelli sono un maccarone lungo e moscio. Non è mancato infine un passaggio su Bagnoli. Dalla regione parere negativo sul commissario Floro Flores. Per De Luca ci sono evidenti incompatibilità e scarsa esperienza amministrativa per la figura scelta dal governo Lega 5 Stelle. Abbiamo segnalato questi problemi e motivato il nostro dissenso. Il governo si assumerà da oggi in poi tutte le responsabilità della vicenda Bagnoli.